Il maestoso yacht di 42 metri di lunghezza, Serenity, nel tardo pomeriggio di ieri, ha attraccato al porto turistico di Agropoli e a bordo di esso c'era la principessa del Bahrain, Dana al-Khalifa, visitatrice di grande importanza ad Agropoli, non solo appartenente alla famiglia reale dello Stato arabo, ma anche imprenditrice, avvocato e volto di brand della moda come Louis Vuitton e Dolce Gabbana. La principessa si trovava di passaggio con il suo yacht diretta verso altre località, quando ha chiesto all'equipaggio di attraccare per poter visitare la città che con le sue bellezze ha colpito l'areale del Bahrain. Lo yacht Serenity mozzafiato e soprattutto di fattura italiana, costruito a Savona dai cantieri Mondo Marine, ha attirato tanti curiosi ammaliati dall'imbarcazione extra lusso. La principessa, come dichiarato dal comune agropolese, ha promesso di tornare per visitare nuovamente la nostra città.